allora vediamo un po come stanno le cose questa è una casetta e la vostra casetta e la vostra abitazione o di assomiglia più a un castello ci avete una bella casetta questa invece è una libreria qui ci sono i libri ora voi vorreste leggere un bel libro eccolo qui ma non potete andare dalla vostra casetta alla libreria per comprare il libro allora come potete fare molto semplice chiamate questo mino qui eccolo questo è il libraio oggi assomiglio un po a frankenstein ma comunque vi assicuro che è buono una brava persona lo contattate lui prende il libro e ta 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 ve lo porta direttamente a casa semplice no voi lo contattate e lui viene da voi e vi consegna il libro mi raccomando sfruttate questa occasione leggete chiamate i librai napoletani perché la lettura è conoscenze sapere la lettura è felicità ed è anche un sacco di risate parola di video imperatore